Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi siamo alla Fossa del Diavolo siamo ben entrati, ci sono i fumogeni, ci sono la pista è fotonica, è stata fresata, poi ha preso un po' di acqua in questi giorni quindi troviamo uno smosso che non è malaccio ci sono i primi giri grazie a tutti 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 Quando sei te che spingi, no? Dici cavolo, oddio, oddio, e poi ti passano di fianco come un fulmine, e ti dici, cavolo, ma quanto si può andare ancora più forte? E invece di questa tua Yamakina, questa tua amica nuova, wow, la mia moto è bella perché? È leggera. Quindi la versatilità, diciamo. Ti stai divertendo? Questa forza del diavolo, ritornato da grande con la moto grande, è sempre bella. I gestori fanno sempre un gran lavoro, anche loro, ci mettono passione, eh? Ci hanno dato anche l'adesivo, fa vedere l'adesivo? Guardate che figo. Fighissimo. Niente ragazzi, ricominciamo. Acima. Grazie. 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 Grazie.